La morte. Nel corso della vita si pensa molte volte che prima o poi, tra anni, mesi, settimane e giorni di preparazione, arriveremo a nostra volta alla soglia della morte. È la legge fatale, condivisa e prevista, tanto che siamo soliti farci trasportare gradevolmente dall'immaginazione verso quell'attimo supremo tra tutti, in cui esaliamo l'ultimo respiro. Ma tra il momento presente e quel respiro finale, che sogni, trambusti, speranze e drammi supponiamo per la nostra vita, cosa ci riserva ancora questa esistenza piena di vigore, prima della sua cancellazione dallo scenario umano. È questa la consolazione. Il piacere è la ragione delle nostre divagazioni sulla morte. Com'è lontana la morte e com'è imprevedibile quanto ci resta ancora da vivere.